I carabinieri di Scalea stanno eseguendo dei controlli su una ragazza di 21 anni di origini romene che vive nella cittadina Tirrena perché secondo la segnalazione di un cittadino si tratterebbe di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel settembre del 2004 da Mazzara del Vallo. Secondo quanto si apprende chi ha segnalato la somiglianza pare abbia riferito diverse circostanze che potrebbero far ipotizzare la vero simiglianza di quanto riferito. Per questo i carabinieri stanno procedendo ai controlli, la ragazza non si è sottratta alle verifiche e ha fornito i nomi dei genitori e altre informazioni utili a ricostruire il suo passato. Di tutto è stata informata la Procura della Repubblica di Mazzara che dovrà decidere se procedere o meno ad effettuare la comparazione del DNA. Grazie a tutti.